Sarà allestito questa sera in Piazza Duomo dove fervono, come vedete, i preparativi per l'organizzazione di una stella sta nascendo Versus Big, il talent voluto dalla Confcommercio di Giarre, il banchetto per la raccolta fondi, per finanziare le azioni legali per l'ospedale. La rete delle associazioni intende procedere sia dal punto di vista penale che civile, si contesta ai vertici dell'ASP di Catania l'interruzione di pubblico servizio. L'evento che Confcommercio questa sera e domani sera organizza in Piazza Duomo sarà l'occasione per fare una raccolta fondi a favore del presidio ospedaliero. Con questa raccolta fondi si cercheranno di coprire le spese legali, le spese quelle vive, perché i legali probabilmente daranno il loro contributo volontario rispetto alla redazione dell'azione e quindi le spese vive saranno coperte da questa raccolta fondi che verrà fatta in maniera trasferente con un rilascio di ricevuta e anche le pubblicazioni delle somme sul social network in modo che il cittadino contribuente che ha aderito all'iniziativa può avere visibilità in maniera trasparente delle somme raccolte. Sarà l'occasione per far sentire agli utenti parte di questo progetto perché quando io sottoscrivo una quota sicuramente sentirò un senso di appartenenza rispetto a quest'azione che vado a fare. Quindi il baghetto avrà uno scopo informativo ma anche appunto quello di raccogliere i fondi. La cosa importante è appunto sottolineare che ancora c'è molta gente che non è a conoscenza che su questo territorio non abbiamo più una struttura ospedaliera che possa rispondere alle esigenze del territorio. Quindi lo sottolineiamo perché è importante che la gente sappia.